buongiorno cari amici clienti ne approfitto visto che ho i barattoli qua sul tavolo per darvi questa informazione appena uscita adesso una cliente e aveva questa necessità ovvero dove c'è la parete dove mette il tavolo in cucina e si sporca sempre allora lei è stufa perché giustamente dice tutti gli anni non voglio rimbiancare e ha perfettamente ragione le ho proposto allora questo tipo di prodotto capatex saten opaco potete scegliere ovviamente dipende dai gusti è un idrosmalto che si utilizza proprio per risolvere questi problemi con una spugna umida riuscita a ripulire il tutto anche macchie di olio di caffè o di sugo qualsiasi cosa può essere utilizzato in cucina nei bagni dove non ci sono più le piastrelle sulle scale le zoccolature oppure nei corridoi insomma gli ambienti dove si sporcano più facilmente magari se abbiamo anche dei cagnolini che si strofinano contro i muri nei corridoi questo è perfetto però questo prodotto può essere utilizzato anche negli ambienti pubblici ristoranti delle cucine dei ristoranti il corridoi degli ospedali delle scuole le zoccolature nel studi veterinari negli studi medici insomma dove è richiesta una certificazione della asa che sia un prodotto lavabile questo è un idrosmalto certificato nel momento dell'acquisto vi verrà rilasciata la fattura con la sua scheda di certificazione allegata benissimo comunque i formati ci sono di tutti i tipi se dovete fare un piccolo lavoro abbiamo quello da litro poi abbiamo due litri e mezzo e 10 litri per tutte le misure per tutti i gusti i colori li potete scegliere dalla cartella ral o dalla cartella ncs o dalla cartella 3d system della caparol buona giornata a tutti ciao da nadia